So cosa state pensando, pensate che tutto questo scurità, giochi di luce e ombra, il mio capillo scompigliato, la sedia che cicola, servano per dare l'atmosfera giusta alla terza puntata di Erika. Invece no, l'ho fatto per questo motivo. Alexa, accendi la luce in camera. Troppo figo. No, 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 non ci può. Cursi, ora calma. Aiuto, aiuto. Cursi, no! Lasciami! Lasciami! Tyler, tenete la ferma. Lasciami, mi prego, lasciatemi. Sono calma. Lei non ha fatto niente. Mi prego. Non voleva, pa. Mi prego. Mi voleva dare una mano. Il sergente Blake è qui. Ti aspetta in ufficio. È figo, è figo, bro. Cioè, come te, ma è bella? A me sti posti mi inquietano. Eccolo. Eh, mio Dio lo dico io. Mio Dio lo dico io. Erika Mason. Sei uguale a tua madre. Eh già. Lasciami. L'ultima volta che ti ho visto arriva via malapena alla scrivania. Sono Lucian Flowers. Ho fondato questo posto insieme a tuo padre. L'ho riconosciuta dal ritratto nell'atrib. Per carità, quello è terribile. Se non fosse stato per tuo padre l'avrei fatto togliere. Hai dormito bene. Bisogna abituarsi a questa vecchia baracca. Madre? È uguale. Sì, vai. Ho una domanda. Riguarda mia madre. Ah, sì. Non voglio metterti a disagio, ma... questo posto è un ospedale. I nostri pazienti hanno diritto alla loro privacy. Qualunque siano le circostanze. Ma era mia madre. Devo sapere. Certo, lo capisco. Ma... in futuro, se c'è qualcosa che vuoi sapere, basta chiederti. Che lei? Cos'è? Che risposta del cazzo? Tua madre soffriva di epilessia. Quando rimase incinta, la malattia peggiorò. Le fu prescritto riposo assoluto, così diede le dimissioni. Chiese che ci occupassimo di lei fino al parto. Tu sei nata qui. In fondo al coroio d'Italia. E' un'amorica. So che per te è molto difficile essere qui. E... Questo non è molto, ma... Ti ho portato una cosa. Era di tuo padre. Ah, eccolo, ah. Tua madre glielo regalò il giorno del matrimonio. Con Elodie. Ecco. E' come parte il gioco, ragazzi. Non si accende più, bravo. Solo che ormai è scarico. Io l'ho... L'ho conservato. Eccolo qua. Scusate. Mister Rimude. Eh. Per ora. Stavo parlando col medico legale. Erika. E' molto probabile che chiunque abbia ucciso suo padre abbia ucciso il signor Johar. Potrebbero esserci altre vittime che non conosciamo. Sono in pericolo. Tutto ciò che sappiamo è che chiunque abbia ucciso il signor Johar è interessato a lei. Onestamente, non abbiamo molto in mano. Il signor Flowers ha suggerito qualcosa che potrebbe aiutarla a ricordare il volto dell'assassino. Oh. Ho dei... Lashley. Degli incubi. Una sagoma di donna con una pistola. Tutto qui. E' come una terapia. Fu sviluppata da tuo padre. E potrebbe aiutarti con i tuoi incubi. E' del tutto indolore. Perfettamente sicuro. Io avevo detto no. Come mai ho detto sì? Puoi andare fino al mondo. Mettiamola per la prova. Fido già? Mi fido di un cazzo. Le immagini che vedrai servono a rilassarti e ad aprirti la ponte. Tuo padre ha progettato una terapia di regressione per aiutare i pazienti ad affrontare i traumi. La prima è solo un test. Di quello che ti passa per la testa. Non sai perché pace a me. Non so tu. Io... Tu ce l'ho. Io ce l'ho. Però va bene. Una testa. Ok. Bene. Se ricordi qualcosa di importante scrivilo. Lo so che rivivere i traumi è difficile. Ma sei al sicuro. Cominciamo. Profumo. Bellezza. Molto a capire. Ah vabbè. Non ho mai. Fede. Che a me manca. Fede. Fattoria. Rabbia. Rabbia. Dio. Fattoria. Ignalata. Va bene. Ignalata. Veloce. Docile. Veloce. Vedo vedo. È troppo veloce. È troppo veloce. Sei tu, Tu, Erika, sei sempre stata tu. Cioè, con l'odio, è stata lei? No, non ho più parere, ma... È finito. Ma non ce l'ha fatta vedere. Tutto a posto. La mamma? Mamma? Sì. Io perché voglio capire se questi qua all'ospedale sono tutti cattivi o no, ho capito? Ecco perché mi voglio fidare. Secondo me qualcuno non è cattivo, ma altri... ... 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 paziente forse lei fosse volare sanguinato può essere christy si visti ballard ah no sono tutte toby e che inalma sempre tutte tenute sotto controllo da rosa salata sempre lei la responsabile britannica britannica su tutte sembrano tutti i binari 24 anni 26 anni tutti i giovani esci noci grazie la curiosità e raramente resta in vita che gli esposti riservato non di solito significa che non dovresti guardare non importa succede non c'è cazzata c'è un semi cazzo era vabbè a sto punto facciamoci sta giocata finiamoci sta cosa è la boristeria e poi stacchiamo dai non va troppo per le lunghe e adesso dobbiamo solo aspettare per vostra fortuna ne avevo già fatto un po' vedi quella scontrosa vada un po' come diventa più mettilo vicino al metto e ti prometto che farai sogni dolcissimi l'ha preparata che ci ha messo così io non voglio non c'è un po' come diventa non c'è un po' come diventa non c'è un po' come diventa non c'è un po' come diventa